Ripeto, vedo un po' di paura. Siamo sicuri, Massi? Attenzione, attenzione anche Ignazio, siamo là. Attenzione Ignazio, sta facendo molta fatica a tenere la presa, attenzione. Le gambe, le gambe, le gambe, le gambe. Attenzione, adesso sta cercando di alternare addirittura, credo che forse l'ha fatto apposta. È tutto regolare, ma devono cercare, probabilmente iniziano a sentire quasi dei crampi. Abbiamo un'attenzione che va oltre a quella che possiamo immaginare. Sì, però le gambe incrociate, sicuramente aiutano. Che provi. Sì, sicuramente sì, però a furia di tenere la gambe. Quattro minuti e dieci secondi. Che prova. Una super sfida tra Aue e Ignazio. A capa sotto. Un attimo di respiro, si fa percino. Si, sto parlando e gira. Attenzione, si continua a girare qua, veramente. È una centrifuga umana. L'abbiamo detto più volte. Vedo che fanno fatica anche i ragazzi che girano. Però... Però... Attenzione, sento delle parole, sento le parole forse da parte di Aue. Si sta appoggiando però. Attenzione. Appoggia. Basta, Aue. Basta, Aue. Basta, Aue. Aue molla. Aue. È il vincitore, Ignazio Moser, di questo terzo duello. Ed è il terzo aspirante, finalista, complimenti Ignazio, complimenti anche, ovviamente, ad Aue. Bravi tutti e due. Grazie. Grazie. Allora. Grazie a tutti